Continuiamo con il mondo della materia, un mondo che è un pochino freddo, lo capisco, ma poi passeremo a cose un pochino più avvicine all'uomo, diciamo, no? E Giorgio De Simoni, che è lo stesso istituto, cioè sempre del nanoscienze, ci porta al Polo Nord. Dicevo, ma cosa ci si va a fare al Polo Nord? Perché al Polo Nord c'è la fabbrica dei computer. In realtà non è così, in realtà ci sono una fabbrica di superconduttori che viene fatta proprio al Polo Nord. Ce lo racconta Giorgio De Simoni. Buonasera. Allora, la storia che racconto oggi è un po' come una vendetta, perché funziona soltanto se ve la servo fredda, il più fredda possibile. Biaccia. E infatti ho bisogno di iniziare condividendo con voi una informazione, diciamo, meteorologica. Oggi a Liuleo, pronunciato sicuramente male, la temperatura massima è 12 gradi, la minima è 4, ma nei prossimi giorni precipiterà sotto lo zero. Dove? A Liuleo. Ora... Lo sapete naturalmente dov'è, chi non sa dov'è l'Ulevia. Sicuramente vi chiedete dov'è e che rilevanza possa avere questa informazione nella nostra vita. Allora, è una cittadina svedese, 80 chilometri dal circolo polare artico, temperatura media annuale 1 grado, quindi freddissimo. E proprio per questa desiderabile caratteristica, ovviamente a seconda delle necessità e dei gusti, è stata scelta da Facebook per realizzare una delle sue più avanzate infrastrutture di calcolo. Questo perché, come ognuno di noi sperimenta, qualsiasi dispositivo elettronico, ancora prima elettrico, durante il suo funzionamento genera calore. E dissipare l'enorme quantità di calore prodotta da migliaia di supercomputer destinate ad archiviare, non so, le foto delle nostre vacanze, diciamo, è un compito non da poco. Tanto da rendere incredibilmente sensato costruire un'infrastruttura di calcolo lì, dove il sistema di condizionamento è essenzialmente, questa è una foto vera dell'impianto, insieme di enormi ventole che pompano dall'esterno la fredda aria polare. Ora, nelle prime, quindi anche più rudimentali, diciamo, applicazioni dell'elettricità, il fatto che ci sia del calore associato alla circolazione di una corrente elettrica era tutt'altro che uno svantaggio, tanto che questo è stato utilizzato per realizzare miriadi di dispositivi di cui tutti noi abbiamo esperienza direttissima. Uno su tutti è questo, la lampadina vecchio stile, nome tecnico lampadina incandescenza. Proprio perché la corrente circolante nel filamento lo scalda a tal punto da farlo diventare luminoso. Ora, tutto bello, ma siccome noi non vogliamo utilizzare computer per riscaldare o addirittura illuminare le stanze, ma anzi, pretenderemmo un minimo di efficienza energetica, ci potremmo chiedere legittimamente, secondo me, possiamo focalizzare la nostra energia non solo su come raffreddare efficientemente l'elettronica, ma anche su inventarne un'altra, un nuovo tipo che magari scalda meno o addirittura non scalda affatto. Ora, il punto è che oggi le formule erano proibite, però noi siamo un po' ribelli e l'abbiamo usato lo stesso. Andiamo a cozzare con un principio della fisica molto famoso, o quasi famoso, che è l'effetto Joule, che dice che in qualsiasi filamento in cui circoli una corrente elettrica, I, viene sempre prodotta una quantità di calore Q, che dipende dal tempo T per cui teniamo accesa la corrente, moltiplicata la resistenza elettrica, R, del dispositivo. Ora, non ci dobbiamo spaventare perché il concetto in realtà è piuttosto semplice. Supponiamo di essere in un locale molto affollato, una discoteca, vogliamo guadagnare l'uscita, ovviamente questo ci costrerà energia perché saremo costretti a farci spazio, urteremo, verremo rallentati, e più il locale è affollato, maggiore sarà la sua resistenza ad essere attraversato. Quindi, in questo esempio noi siamo gli elettroni, la particella elementare che trasporta la carica elettrica e che muovendosi genera la corrente elettrica. Ora, i materiali, buoni conduttori, metalli tipicamente, che utilizziamo per applicazioni elettriche, sono locali fuori moda, dove non c'è nessuno e che quindi, diciamo, vengono attraversati abbastanza facilmente, però, in condizioni di questo mondo, anche al polo nord, la resistenza non è mai zero. E questo sembra dirci che no, non è possibile costruire un'elettronica che non sprechi parte dell'energia elettrica, convertendola in calore di scarto. Perlomeno se continuiamo ad andare a ballare in discoteca. Ora, per uscire da questo vicolo cieco dobbiamo tornare a un freddo, un freddo ancora più intenso di quello polare. Nel 1911 questa persona, che è il fisico olandese Onnes, inventa un metodo per raffreddare l'elio fino alla sua temperatura di liquefazione, meno 270 gradi, ovviamente la temperatura più fredda mai realizzata in un laboratorio di fisica fino a quel momento, e utilizza questo liquido come liquido refrigerante per studiare le proprietà di conduzione dei metalli a queste temperature estreme, e scopre che alcuni di essi, di alcuni metalli, non tutti, alluminio, titanio, piombo, mercurio, raffreddati così tanto diventano superconduttori, ovvero sia trasportano corrente elettrica a resistenza zero, quindi senza generare calore. Ora, per capire quanto dirompente sia stata questa scoperta, che poi gli ha valso il Nobel qualche anno dopo, quello che vi sto dicendo è che nei superconduttori, quando sono freddi, la resistenza non è quasi zero, è zero, è esattamente zero. Ora, se vi stesse chiedendo, ma oggetti basati su questi materiali sono quindi chiusi nei laboratori da cento anni circa, sparsi per il mondo, diciamo, avreste solo parzialmente ragione, infatti esistono alcuni oggetti non di uso comune, ma che comunque potreste aver incontrato nella nostra vita. Ora, prima però, mi piacerebbe utilizzare di nuovo la metafora del ballo per spiegarvi un minimo come funzionano. Quindi, diciamo che un metallo normale sta a una discoteca, come un superconduttore sta a una sala in cui si balla il waltzer. Gli elettroni si uniscono a formare delle coppie, dette coppie di Cooper dal fisico che per primo ne ha ipotizzato l'esistenza, e il loro moto reciproco e rispetto agli altri ballerini è così ordinato che possiamo pensare che una coppia riesca a attraversare tutta la sala da ballo senza mai urtare, quindi senza sprecare energia. Quindi, oggetti così, queste sale da ballo esistono, vengono utilizzate e sono in alcuni oggetti, appunto, che potreste conoscere. Uno è la macchina per la risonanza magnetica nucleare. Un altro è il treno a levitazione magnetica, Maglev-Shinkansen. Quindi, oggetti non comuni, ma di cui sicuramente avrete almeno sentito parlare. In questi due dispositivi, superconduttori sono stati utilizzati per costruire dei magneti, degli elettromagneti così potenti che se realizzati con normali metalli consumerebbero una quantità enorme di energia e si scalderebbero al punto da rendere di fatto inutilizzabili queste tecnologie. Ora, domanda, ma com'è possibile che sia energicamente conveniente utilizzare un superconduttore che deva raffreddare a temperature prossime allo zero assoluto quando, alla fine, con l'elettronica tradizionale mi basta andare al polo nord? E la risposta è abbastanza diretta, perché quello che si fa con l'elettronica tradizionale è simile a, come se volessimo, avessimo la pretesa di tenere fresca l'acqua in casa tenendo aperta la porta del frigo. Sicuramente bolletta elettrica altissima e acqua sempre tiepidina. Invece, con i superconduttori, quello che si fa è un approccio più simile a quello che facciamo quotidianamente quando portiamo l'acqua fresca al mare, nella ghiacciaina. Raffreddiamo sì una volta per tutte i blocchetti refrigeranti, ma poi, grazie al fatto che abbiamo un ottimo isolamento termico e che non abbiamo fonti di calore interne al frigo, l'acqua rimane fredda senza raffreddamento attivo anche per molte ore. Quindi sì, si può avere un'elettronica superconduttiva particolarmente efficiente. La seconda è, ma quindi si può davvero passare da una grossa calamita montata su un treno all'elettronica? Sì, si può. Esistono già molte declinazioni di elettronica superconduttiva che fanno impallidire le performance dei computer classici sia in termini di velocità, sia in termini di efficienza energetica. Sono per ora, purtroppo, principalmente a pannaggio di tecnologie militari, perché ovviamente non è facile lavorare a temperature così basse, ma per quelli che, come me, lavorano, diciamo, con i superconduttori, la sensazione è che, così come l'invenzione di una tecnica di rifrigerazione ha permesso di scoprire con i superconduttori cento anni fa, il continuo miglioramento di questo tipo di tecnologia ci abbia portato all'inizio di una strada che è ormai segnata, che è quella della fredda vendetta della superconduttività sulla elettronica dissipativa. Grazie. Grazie Giorgio. È riuscito a rendere simpatico un argomento ostico, perché insomma non è facile parlare di queste cose. Grazie. 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 Grazie a tutti